Buonasera a tutti, sono Morris Carruzzieri, volevo fare un saluto a tutti i tifosi dell'Arezzo per l'anno che ho trascorso lì con voi che è stato un anno stupendo nel 2005-2006 dove abbiamo sfiorato i playoff per la Serie A con una grande squadra, con un grande allenatore, un grande e buonanima direttore, Ermanno Pieroni, il presidente Mancini, ma il saluto più grande va a voi della mitica curva che siete stati veramente quell'anno fantastici, ho lasciato tantissimi amici, li sento tuttora, Arezzo vengo spesso, sento anche il mio ex compagno di squadra Nello Cutolo che è una grandissima persona che giustamente sta facendo il direttore lì, sta facendo bene, quindi siete nelle buone mani. E niente, ripeto, è stato un anno bellissimo, purtroppo non è andata bene perché potremmo fare molto di più ma ho dei bellissimi ricordi, cioè tipo aver battuto, insomma aver pareggiato a Bologna, aver battuto grandi squadre come l'Atalanta, come il Catania e poi eravamo anche una bella squadra, insomma giocatori che siamo arrivati in Serie A da me, Antonini, Raimondi, Abruscato, Floro Floro, quindi poi eravamo Daniele Pilonato, insomma eravamo una bella squadra e questo è il merito per tutto, come ho detto prima, ad Ermanno Pieroni. Il mio saluto va anche alla collezione Maglio Amaranto che sono dei ragazzi e della gente stupenda che tengono questo, si vedono questo marchio, queste maglie dell'Arezzo, quindi si vede l'attaccamento che avete nella vostra città, nella vostra squadra, quindi un grandissimo saluto. Per un Arezzo speriamo il prima possibile di rivederlo in Serie B. Ciao a tutti, forza Arezzo, un abbraccio, ciao ragazzi.